ben tornati miei cari ospiti al salone della storia della locanda sì avete completamente ragione e avreste ragione ad arrabbiarvi per quanto anche questo podcast non è proprio un podcast di storia ma vi giuro che appena mi è venuta in mente l'idea di narrare di questa voce mi sono sentito fremere vi prego quindi di sedervi accanto al fuoco e di ascoltare anche questo podcast sul folclore della storia perché oggi parliamo dei giganti un gigante è un essere dall'aspetto umano ma di incredibile statura e forza che compare nelle mitologie nel folclore e nelle fiabe di molte culture in molte tradizioni indo-europee i giganti sono creature associate all'origine stessa del cosmo e rappresentano il caos primordiale a cui gli dei si oppongono questo tema per esempio ricorre sia nella mitologia greca che in quella norrena in genere i giganti sono rappresentati come esseri di grande forza estremamente longevi e spesso anche depositari di una grande conoscenza e tuttavia immorali e distruttivi nel folclore quest'immagine generale si è parzialmente trasformata i giganti di fiabe come jack e la pianta di fagioli sono stupidi violenti e divorano gli esseri umani specialmente i bambini le loro caratteristiche sono quasi del tutto sovrapposte a quelle degli orchi esistono infine anche caratterizzazioni atipiche come quella di oscar wilde in cui i giganti appaiono intelligenti e amichevoli i giganti biblici l'appellativo nefilim presente nell'antico testamento la torà in diversi libri non canonici del giudaismo e in antichi scritti cristiani si riferisce a un popolo di giganti che sarebbe stato presente sulla terra al tempo dell'incrocio tra i figli di dio e le figlie degli uomini il termine è utilizzato anche riguardo ai giganti che abitavano la terra di canan per esempio in numeri 13 33 e trova indirettamente riscontro in e zachiele 32 27 i riferimenti biblici nella genesi 6 1 8 si legge quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie i figli di dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per moglie a loro scelta allora il signore disse il mio spirito non resterà per sempre nell'uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni c'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo quando i figli di dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli sono questi gli eroi dell'antichità uomini famosi l'interpretazione cristiana i primi apologisti cristiani come tertulliano e soprattutto l'antanzio accolsero l'idea presente chiaramente nel libro di enoch e negli scritti a esso correlati che i figli di dio fossero gli angeli caduti come sembra intendere anche il passo della genesi tuttavia in seguito giulio africano e agostino di pona condannarono l'idea che i cosiddetti figli di dio potessero essere i angeli nella città di dio i figli di dio sono fatti divenire i discendenti di set altri suggeriscono che i figli di dio in realtà fossero personaggi storici del passato completamente umani divinizzati dalla tradizione orale i figli di dio sono quindi individuati come i discendenti di set mentre i figli degli uomini come i discendenti di caino a conforto di questa ipotesi si richiama il fatto che lo scopo del diluvio universale inviato da dio era quello di spazzare via la terra di quei nefilim che si erano resi così orgogliosi e depravati ai tempi di noè l'idea che esseri divini possano accoppiarsi con umani risulta controversa specialmente tra molti cristiani che citando un'interpretazione degli insegnamenti di gesù nel vangelo di matteo affermano che gli angeli non si sposano sebbene questo sia un concetto estrapolato dal contesto del verso perché in luca gesù afferma che i risuscitati non si sposano nel cielo ma sono come gli angeli in questa ipotesi però resta inspiegato di come sia possibile che dall'unione tra i figli di dio e le figlie degli uomini possano nascere dei giganti che tra l'altro ricompaiono anche dopo il diluvio dove vengono specificate anche le loro dimensioni a riguardo la chiesa ortodossa etiope accoglie il libro di enoch come canonico la chiesa di gesù cristo dei santi degli ultimi giorni afferma che i figli di dio erano i figli di uomini devoti a dio e che le figlie degli uomini erano figlie di uomini che avevano rinnegato dio altre ipotesi alcuni esegeti trovando sgradevole o blasfema l'idea della copulazione tra angeli umani hanno suggerito interpretazioni più figurative del concetto di nefilim proponendo l'idea che fossero una progenie di posseduti dai demoni alla luce delle speculazioni moderne sulla storia dei rapimenti alcuni hanno inoltre ipotizzato che si trattasse di una descrizione arcaica di una specie di inseminazione artificiale e di manipolazione genetica da parte di alieni i nefilim e la para storia vi sono stati alcuni tentativi di conciliare la mitologia con la scienza teorizzando che alla radice della mitologia vi siano elementi di verità nella forma di leggenda molto distorta in questo contesto i nefilim sono stati associati con la popolazione di atlantide che alcuni sostengono essere in contatto o addirittura discendenti dagli extraterrestri i nefilim come superstiti preistorici la teoria prevalente per stabilire un legame tra la scienza e la bibbia è quella che sostiene che i nefilim fossero neandertaliani sopravvissuti o forse un ibrido tra homo sapiens e uomo di neandertal questa teoria assomiglia a quella che associa la leggenda dei draghi alle ossa di dinosauro molti studiosi pensano che l'uomo moderno abbia condiviso gli stessi territori dei neandertaliani per molti millenni e che la regione del vicino oriente sia stato l'ultimo habitat per uno sparuto numero di tribù superstiti di neandertaliensis dunque è concepibile che sia rimasta una memoria popolare di queste tozze e forti creature tramutata in leggenda e voluta successivamente in popolari racconti mitologici più o meno adattati al loro gusto dalle varie civiltà ad esempio in sardegna creature ancestrali tozze e pelose sono raffigurate dalle maschere dei mammutones la teoria degli antichi astronauti zaccaria sicin ed eric von daniken hanno scritto libri sostenendo che i nefilim siano i nostri antenati e che noi siamo stati creati da una razza aliena nei voluminosi libri di sicin si impiega l'etimologia della lingua semitica e traduzione delle tavolette iscritte a cuneiforme dei sumeri per identificare gli antichi dei mesopotamici con gli angeli caduti osservando che tutti gli angeli vennero creati prima della terra lui ritiene che non possano essere della terra e dunque potrebbero tutti essere considerati semanticamente come dei puri extraterrestri i giganti greci nella mitologia greca i giganti erano esseri immortali come le divinità e come ricorda esiodo erano i figli di urano e gea ovvero del cielo e della terra queste creature diedero vita a una guerra con gli dèi dell'olimpo la gigantomachia che ebbe termine grazie all'intervento di ercole secondo i greci alcuni giganti per esempio encelado erano sepolti da allora nelle profondità della terra i terremoti erano interpretati come sussulti di queste creature sepolte altre creature gigantesche della mitologia greca erano i ciclopi gli hecatonchiri i titani che però sono distinte dai gigantes i giganti norreni nelle mitologie germaniche e in particolare in quella norrena sulla quale si hanno maggiori informazioni i giganti o jotnar in antico norvegese sono fra le figure predominanti a partire dalla stessa cosmogonia i giganti infatti esistono da prima del mondo che ebbe origine proprio dal corpo di un gigante imir spesso messo in relazione con yama della mitologia indiana come in altre mitologie indoeuropee i giganti della mitologia norrena rappresentano il caos ancestrale che minaccia in continuazione il mondo razionale e ordinato degli dèi molti dei mostri più terribili che abitano la terra sono giganti o progenie di giganti la tradizione mitologica norrena prevede che nell'ora del ragnarok il crepuscolo degli dèi che porrà fine al mondo i giganti attaccheranno la divina città di asgaror i giganti nel folklore in molte zone d'europa la tradizione popolare fa riferimento a giganti di varia natura in molti casi per spiegare fenomeni naturali come il terremoto oppure le grandi costruzioni di civiltà antiche saxo grammaticus per esempio cita i giganti per dar conto dei grandi monumenti che oggi sappiamo essere dovuti all'impero romano analogamente nella mitologia basca i giganti vengono chiamati in causa per spiegare i dolmen e i menhir più strettamente legata alla mitologia in senso stretto sono le numerose storie diffuse specialmente nel galles e in irranda sul combattimento di eroi con i giganti queste creature appaiono anche nella letteratura bretone e nei romanzi arturiani da qui sono giunti fino alle opere di luigi pulci ludovico ariosto torquato tasso ed edmund spencer moltissime sono anche le fiabe che trattano di giganti dalla celebre jack e la pianta di fagioli alla fiaba di oscar wilde il gigante egoista nel folklore tuttavia non è sempre possibile distinguere i giganti da figure analoghe come orchi troll o altri mostri antropomorfi i giganti nella letteratura gargantua e pantagruel sono due giganti padre e figlio protagonisti di un ciclo di romanzi satirici di françoire belè pubblicati a partire dal 1532 tra le raffigurazioni dei giganti nelle opere di letteratura merita una menzione i viaggi di gulliver romanzo anch'esso satirico di jonathan swift del 1726 in questo romanzo swift relativizza il concetto di gigante ed evidenzia che anche un uomo normale può apparire un gigante in confronto a creature più piccole infatti il protagonista gulliver visita nel suo secondo viaggio un paese di giganti brob dignag ma è egli stesso visto come un gigante nel suo primo viaggio a lilliput paese abitato da uomini alti 15 20 centimetri george harar martin nella sua popolare saga fantasy cronache del ghiaccio e del fuoco pubblicata dal 1996 descrive un popolo di giganti alti tra i 10 e i 14 piedi e cavalcatori di mammut e con questo miei cari ospiti tutto sedetto sulla figura dei giganti spero veramente che mi perdonerete se ho portato un'altra opera del folklore moderno il vostro host vi ricorda che ci sono le pagine instagram e facebook dove potete seguire tutti gli ultimi aggiornamenti e le novità del canale e che potete contribuire alla felicità della locanda con una donazione su paypal o cofi il vostro host vi saluta e vi rimanda al prossimo podcast